Io dall'inizio ho puntato su questa formula, trovare un quadro di corresponsabilità anche nella distinzione dei ruoli, delle funzioni e chiedere che questo percorso non venga impedito. Punto. Cercando di trovare un quadro in cui ciascuno possa, se ritiene, almeno parzialmente riconoscesi e possa prendere la sua parte di responsabilità. Ciascuno valuterà. Ma in trasparenza, qui non ci sono, guardate, non inseguite oltre illecito delle dietrologie o degli strani cunicoli, qui si stanno dicendo le cose che quando siamo lì io dirò direttamente al Paese. Non c'è niente di strano. Ciascuno avrà un quadro davanti e deciderà se prendersi le sue responsabilità nella graduazione che riterrà per appoggiare, per sostenere, per consentire, per opporsi in un quadro tuttavia di condivisione delle esigenze, di riforma delle istituzioni, vedranno. Tutto qua. Il mio lavoro è questo, mettere in trasparenza questa questione e dare al mio Paese un'opportunità di cambiamento. La mia ambizione è questa qua, dare al Paese un'opportunità di cambiamento, sperando che ciascuno abbia la volontà di cogliere. L'ultima davvero che devo andare.